Il primo contatto con Golman C'è stato nel 2022 grazie ad una mia collega che aveva messo il robot e la quale mi aveva parlato molto positivamente della gestione del lavoro in seguito all'acquisto di questa macchina al che mi sono deciso anch'io di fare questa verifica e di incontrare l'area manager del centro sud di Golman per avere delle spiegazioni e delle delucidazioni a tal proposito mi serviva quindi uno strumento per poter migliorare la metodica di lavoro e di approccio nei confronti dei clienti soprattutto perché anche richiesta dai miei collaboratori al che quindi spiegata il primo Modems che mi ha spinto quindi a contattare Cristian Salarini l'anno scorso e quindi ad avere delle prime spiegazioni nel momento in cui abbiamo quindi deciso di inserire un robot all'interno della farmacia siamo stati contattati anche da competitors della Golman con cui ho avuto dei contatti ma in realtà molto superficiali e la scelta comunque è ricaduta su Golman anche grazie alla professionalità, alla tutela e all'aiuto nella gestione proprio della progettazione del macchinario da parte della Golman stessa, da parte di Cristian Salarini che mi ha seguito in tutto l'iter e devo dire che quindi sono rimasto molto soddisfatto da questo punto di vista soprattutto nella fase, ripeto, di progettazione del prodotto anche perché ci serviva un macchinario, un robot assolutamente su misura sia per motivi di spazio della farmacia che anche a livello di tecnica la tecnica di Golman mi è sembrata sicuramente quella più evoluta rispetto ai competitors e di conseguenza la scelta anche ovviamente condivisa con i miei collaboratori ci ha portato direttamente su Golman sicuramente l'introduzione ha favorito e facilitato in gran parte la gestione sia del magazzino che ovviamente anche della clientela devo dire che la cosa che personalmente mi ha molto sorpreso e che mi ha sorpreso positivamente è la gestione di tutti quegli integratori figli unici di cui credo ogni farmacia abbia una parte del magazzino molto molto ricca noi li avevamo accatastati all'interno di ovviamente scaffali ed era quasi improponibile perdavamo dai 5 ai 10 minuti nel ritrovamento di questi prodotti messi in ordine, seppur messi in ordine alfabetico ma comunque molto difficile c'è da dire che quindi parlo anche a nome dei miei collaboratori che poi più di me sicuramente stanno al banco c'è da dire che effettivamente ad oggi io non tornerei più indietro rispetto ad una gestione legata alla cassettiera oppure all'utilizzo degli scaffali perché ripeto, sottolineo, il computer e il sistema informatico che poi gestisce il robot Goldman consente la giacenza di tutti i prodotti di tutte le referenze con la data di scadenza quindi abbiamo un monitoraggio costante giornaliero dell'uscita e dell'entrata dei prodotti e questo è impagabile anche in termini proprio di gestione patrimoniale della farmacia per questo che io suggerisco anche ai colleghi che effettivamente hanno anche molti ingressi all'interno delle loro farmacie è l'acquisto di questo macchinario che è stato tutto